Maggetti ha gareggiato in un ambiente estremamente competitivo, dove ha dovuto confrontarsi con alcune delle migliori surfiste a vela d'Europa. Tra di loro c'era anche Alessandra Sensini, un'atleta esperta e vincitrice di numerose medaglie in competizioni internazionali. Sensini è considerata una delle pionieriste del windsurf e spesso è stata elogiata per le sue abilità tecniche e la sua finezza in gara. Per ogni gara era importante sfruttare strategicamente ogni onda e ogni raffica di vento per raggiungere la massima velocità possibile. In un momento notevole delle ultime regate è diventato chiaro che la decisione per la medaglia sarebbe stata presa negli ultimi metri. Maggetti era in testa con un margine stretto mentre si avvicinava al traguardo. La pressione da parte delle sue avversarie era enorme, ma la windsurfer italiana ha mantenuto la calma. Gli spettatori sulla riva potevano quasi percepire la tensione che aleggiava nell'aria mentre cercava di difendere la sua posizione.